La Croce Rossa di Caltanissetta, vincitrice dell'ennesimo bando fatto all'ambitato nazionale della Croce Rossa italiana, oggi inaugura le officine della salute. Un presidio sanitario a favore dei bisognosi attraverso il numero unico nazionale 806 5510. Le persone che hanno necessità di visite mediche e che non hanno la possibilità di poterle effettuare possono chiamare questo numero, saranno poi ricontattate dai nostri uffici per la verifica documentale e per essere messi in contatto con dei professionisti che si stanno mettendo gratuitamente a disposizione per il nostro progetto. Il progetto consiste in visite mediche gratuite, nonché eventuale fornitura di farmaci a famiglie o soggetti in condizioni di disagio o di indigenza. L'ambulatorio è stato aperto all'interno dell'Istituto Testa Secca che noi ringraziamo per la disponibilità che ci è stata fornita, come ringraziamo la disponibilità di medici, infermieri e psicologi che si sono messi gratuitamente a disposizione la Croce Rossa italiana per aiutare chi ha più bisogno. Inoltre, con la collaborazione del Comitato regionale Cri Sicilia, la Croce Rossa di Cattaristetta a breve sarà anche abilitata per l'esecuzione di tamponi rapidi, sia a plagamento sia per soggetti indigenti, di cui ne verrà rilasciato regolare ricevuta e green pass qualora negativo.